salve ragazze mia review in pillole in questo caso sembra che appunto una youtubers si ripeta ma mi è appena arrivato il pacco di nyx con i soft lip matte transilvania io ho voluto prendere un matte un po più scuro di quelli che di solito utilizzo tinte labbra volevo provare ho detto costa poco proviamola perché ne ho sentito parlare il problema è che non ne sento parlare né bene né male innanzitutto la prima prova che ho fatto è stata senza niente l'effetto era proprio di labbra macchiate cioè ragazze io non so se si vede ora ma non hanno sicuramente un colorito uniforme magari dici da così figo eccetera perché comunque nel video magari essendo un video da telefono non non si vede tanto ma il colore sicuramente non è uniforme ha dovuto fare parecchie passate per renderlo un po più coprente perché sicuramente non non aveva un effetto uniforme inoltre si era spaccato subito all'interno delle labbra e questo è la cosa che odio e dico odio delle tinte per cui ne ho bocciate veramente parecchie compreso che poi ora salvo perché sono riuscita a utilizzare ma fra i nei la tinta duo di mac di mac che sono riuscita a salvare utilizzando il mio salvavita primer primer occhi e labbra wicon ora che dirvi la tinta è abbastanza cremosa ma i che fa molto sospettare perché le abbastanza cremosa si asciugano con difficoltà e nello stesso tempo essendo cremosa e non hanno non lasciano una tinta di tipo uniforme e che mi porta a bocciarla in in parte cioè se volete una tinta che costi poco e avete delle labbra che non seccano e il cui la cui carnosità inizia cioè il cui diciamo lato tra virgolette proprio della cartilagine delle labbra inizia un po più in là potete assolutamente comprarla ma sappiate che comunque non dura tantissimo non si effettuano transfer ma dopo un po che si è asciugata voglio dire che non ha la tinta uniforme ora in questo momento la sto facendo asciugare dopo aver ripeto messo il mio salvavita perché ovviamente la voglio riutilizzare è costata 7 euro voglio dire non è nemmeno fra le più mercate perché con 6 euro e 90 compilichico e quindi ho utilizzato sempre questo della wicon e sembra abbia assorbito di più del prodotto però come vedete non è del tutto uniforme io ho comprato questa tonalità transilvania per il fatto che è troppo cremosa che non è molto uniforme come stesura che col pennellino devi stare devi lavorarci molto bene per stenderlo benissimo nelle labbra rullo di tamburi da un 4 e mezzo un 4 e mezzo perché realmente penso che sia chiacchieratissima ma che non ne valga la pena da mano un facile veloce opinioni è tutto un bacione ciao bellezze grazie grazie